No, no, io non posso rimanere, ma la battuta io sono d'accordissimo perché Libero ha fatto una battaglia contro quota 100 e contro il reddito di cittadinanza. Quindi io non abbiamo nessuna difficoltà a dire che quota 100 come reddito di cittadinanza sono stati provvedimenti assolutamente sbagliati. È esattamente quello che noi andiamo sostenendo. Scusa, ma l'idea che tra il male possa nascere il bene è che l'Europa si possa risvegliare pensando che basta con i vincoli, e adesso si investe a tutta birra, non è una buona notizia? Se succederà. No, io non credo che sia una buona notizia, nel senso che mi sembra naturale che l'Europa allenti la presa, però non credo che per il nostro paese, benché necessitato a farlo, sia questa grande notizia, aumentare il debito e via discorrendo. A me sembra invece che l'Europa mi ha fatto tantissimi errori, però che anche l'Italia debba responsabilizzarsi. Però mi sembra rivelatore che oggi tutti si appellano all'Europa, eh? Tutti si appellano all'Europa, eh? Che non possiamo fare senza. Esatto. Ok.